La loro pochezza di numero nobilita i Longobardi. Così lo scrittore latino tacito nella sua Germania descriveva i Longobardi, sottolineandone la fierezza e la combattività. Secondo gli storici, il popolo Longobardo, al suo arrivo in Italia, compresi donne, bambini, vecchi, schiavi, era comunque composto da 200.000 persone, cui si unì un contingente di 30.000 sassoni, amici e antichi vicini di casa dei Longobardi. Per contro, dobbiamo pensare che la popolazione italica di allora, pur decimata da guerre, pestilenze, era comunque di 3 milioni di abitanti. Lo storico Longobardo Paolo Varnefrido, detto il Diacono, afferma che il nome Longobardo deriva da Lang Barth, letteralmente lunga barba, poiché era costume degli uomini portare lunghe barbe incolte. I Longobardi, tuttavia, non si chiamavano sempre così. Il loro nome originario era Vinnili, ovvero Guerrieri. La terra di origine dei Longobardi fu l'odierna Svezia meridionale, nella regione della Scania. Nel I secolo a.C., a causa del sovrappopolamento, un terzo di loro attraversò il Mar Baltico, stabilendosi lungo il basso corso del fiume Elba, in bassa Sassonia, cioè nell'odierna Germania settentrionale. Insalendo il corso di questo fiume, i Longobardi giunsero in Bohemia, l'odierna Repubblica Ceca, e quindi nel Norigo, l'odierna Austria, e infine arrivavano in Pannonia, a cavallo tra l'Ungheria e la Serbia. E fu proprio dalla Pannonia che nel 568 i Longobardi, comandati dal loro re al Boino, mossevo verso l'Italia, attraverso l'oderno Friuli. Capitale del regno Longobardo fu sempre Pavia, Ticinum, sino a quando, nel 774, l'ultimo re Longobardo, Desiderio, si arrese alle truppe di Carlo Magno, il re dei Franchi. Al vertice della società Longobarda vi erano gli uomini adulti e abili alla guerra, chiamati arimanni, dalle parole Longobarde hari, guerra, e man, uomo. Vi erano poi gli aldi, i quali coltivavano la terra dei loro arimanni. Le attività agricole, infatti, erano considerate tanto spregevoli da essere affidati ai vecchi, il Longobardo Ald, non più abili, cioè, a combattere. In fondo alla gerarchia sociale vi erano gli schiavi, in massima parte di origine slava, considerati non persone, ma semplici strumenti di lavoro nei campi. I Longobardi ospitarono infine comunità di popoli alleati, come i Bulgari, da cui forse derivano nomi di paesi come Bulgaro Grasso, Como, e Bolgare, Bergamo. Ad ogni arimanno, in tempo di pace, erano affidate la riscossione dei tributi e la difesa di un territorio. I tributi riscossi erano per lo più di natura, ed erano conservati in un apposito magazzino detto sala. Presso la sala vi era l'abitazione dell'arimanno, della sua famiglia, degli aldi e degli schiavi. L'insieme di queste persone era detto fara. Ogni arimanno aveva poi un gahagi, o gaggio, cioè una riserva di caccia privata. Già prima dell'arrivo in Italia alcuni arimanni si erano fregiati del titolo di duca, parola derivata dal latino dux, capo militare. Quando giunsero in Italia i duchi scelsero tra loro chi doveva diventare re dei Longobardi. Il re a sua volta concesse a ciascun duca l'amministrazione di un vasto territorio detto per l'appunto ducato. Nel regno Longobardo sono storicamente accertati ben 35 ducati, i più importanti dei quali erano i ducati di Brescia, Trento, Verona, del Friuli, della Tuscia, Spoleto e Benevento. Vicino a noi erano i ducati di Milano e Bergamo. Oltre a questi vi era il ducato di Pavia, contemporaneamente sede della monarchia. L'amministrazione dei beni del re, sparsi in vari ducati, fu affidata a funzionari, ospiti dei duchi e detti gastaldi, dalle parole Longobarde Gast, ospite e Wald, illustre. Infine, l'amministrazione della giustizia era demandata a giudici locali detti skuldaschi. Ancora oggi in tedesco schuld significa colpa, torto. Nel prossimo video scopriremo che molte parole dei Longobardi, tra cui a quelle appena citate, sopravvivono ancora oggi nei nomi dei nostri paesi, nella lingua italiana o nel dialetto brianzolo, a distanza di 13 secoli dalla caduta del loro regno.